Bentornati a Mi Mandarai 3, oggi parleremo di inquinamento ambientale, di come smaltire i rifiuti, soprattutto quelli a base di plastica, di truffe e frodi in rete, spesso nell'acquisto di oggetti d'uso comune come un frullatore e poi ci chiederemo quanto davvero vale la nostra casa, perché spesso il prezzo di mercato non corrisponde alle nostre aspettative. Buongiorno, sono Elena da Roma e volevo chiedere, nel caso in cui acquistando un immobile con mutuo la perizia della banca fosse di molto inferiore al prezzo pattuito e non potessi colmare la differenza, posso recedere dagli impegni presi con il venditore, l'agenzia immobiliare e la banca stessa a costo zero? Che fare in questi casi? Risponderemo a questa domanda tra un istante con l'aiuto del notaio Giulia Caralizio che è venuta a trovarci di nuovo, buongiorno, buongiorno, Gian Battista Baccherini, Presidente della Federazione degli agenti immobiliari, avete sentito, alla nostra amica la banca non riconosce il valore dell'immobile che pensava di avere già comprato, notaio, che si può fare nel caso in cui la banca stimasse a ribasso il valore dell'immobile. Allora, problemi non ci sono se nel preliminare questa condizione era stata prevista, tra l'altro la Cassazione lo riconosce proprio che si può condizionare la compravendita al fatto che venga rilasciato un mutuo, certo se non l'ho scritto il problema sussiste. Sussiste, di tutto questo e di molto altro parleremo tra poco, sigla. Gli ultimi dati fotografano una situazione molto chiara, la ripresa del mercato immobiliare è legata per ora alla situazione del prezzo del mattone. Mercato immobiliare in Italia del 2018 compravendite più 6,6%, il prezzo degli immobili meno 2,5%. In sostanza sono ancora i prezzi molto bassi che consentono una ripresa delle compravendite. Baccarini, ci sono degli indicatori che consentono di dire se la discesa è a fine corsa o ci sarà un altro step? Beh sì, noi prevediamo innanzitutto che ci sia un innalzamento dei valori di mercato dal 2020. Quest'anno prevediamo una stabilizzazione ancora dei valori, dei prezzi e gli indicatori sono dettati dal fatto che nonostante ci sia una fiscalità eccessivamente elevata e soprattutto confusa e complessa la casa, il mattone, rimane comunque il migliore investimento in assoluto per gli italiani lo ha testimoniato anche il recente rapporto Banca Italia-Istat dove la metà della ricchezza lorda delle famiglie ancora è nel bene rifugio irrinunciabile che ha la casa e quindi noi siamo fermamente convinti che questa voglia di casa unitamente a una necessità di una fiscalità più leggera possa portare a una ripresa fattiva. Il valore della casa cambia, si deprezza o mantiene il suo valore a seconda anche delle città in cui decidiamo di comprare la casa. Quotazioni immobiliari nei quartieri residenziali abbiamo preso a campione tre città, Roma, Napoli e Milano. Guardate i prezzi, più o meno nel 2018, 4.400, 6.200 euro a metro quadro, nel 2013 erano 5.300, 7.000 euro a metro quadro. A Napoli si andava dai 3.400 ai 5.100 euro a metro quadro, ai 6.200 nel 2013. Quindi come vedete si sono abbassati i prezzi, più o meno invariata la situazione a Milano-Duomo, 7.500 euro a metro quadro, dunque a Milano in certe zone è sceso un po' il valore delle case. Se a Roma e a Napoli ad esempio il valore delle case è sceso negli ultimi 5 anni, a Milano ha retto mantenendo i prezzi nel tempo. Come si spiegano queste differenze che abbiamo visto, Baccarino? Beh, noi innanzitutto ci risulta che a Milano è un più 6,2% addirittura, quindi sono aumentati di molto. È vero che Milano corre un po' per conto suo, dipende molto dall'amministrazione comunale. Milano ha attuato, a seguito dell'Expo 2015, un piano strategico di rigenerazione urbana fondato sull'innovazione tecnologica, sulla sostenibilità ambientale, su una riqualificazione della città attraverso una visione integrata delle politiche urbanistiche, contemplando non solo il settore casa ma anche il settore trasporti, sicurezza, tutela dell'ambiente e questo ha reso attrattivo la città, quindi un po' di esempi per tutte le altre città. Se avete dubbi o domande sulla vostra casa, se pensate di acquistare un immobile, questi sono i numeri di Mi Manda Rai 3 per entrare in contatto con noi. Il nostro canale WhatsApp 345 3131994, la mail, mi manda rai3, chiocciola rai.it, la nostra pagina Facebook, dove potete interagire con la redazione di Mi Manda Rai 3, potete segnalarci delle storie. Il valore immobiliare è legato a parametri economici. Notaio Clarizio, un paese con un forte debito e poca crescita sconta, diciamo, uno scotto anche sul piano del suo patrimonio immobiliare. Certo, si risente il valore della casa, risente di tutta la situazione economica. Quello che mi veniva da pensare, guardando anche a queste cifre, era che sì, è vero, abbiamo avuto una bolla con dei prezzi enormi, abbiamo avuto un calo, però l'importante alla fine per il cittadino, per l'italiano, è che la propria casa possa essere rivenduta e che con quanto ricava possa riacquistare un'altra casa e che magari quella casa sia addirittura al di sopra di quello che pensava di poter acquistare una volta. Ecco, io sto vedendo questo nella realtà, che in realtà le persone riescono, vendendo la casa che avevano comprato, anche vendendola a un prezzo inferiore a quello a cui l'avano comprata, che però riescono a comprarci una casa che magari non pensavano di riuscire ad acquistare. È un dato interessante. Allora, questo ci deve controllare. Ecco perché negli anni sono state varate anche una serie di politiche della casa che stimolano la ristrutturazione, la riqualificazione energetica degli appartamenti. Vediamo, 20 anni di bonus case, dal 1998 al 2018, 17,8 milioni di interventi. Nel 57% delle abitazioni italiane, quasi 293 miliardi di euro di investimenti. Investire nella nostra casa, Baccarini, ripaga dal punto di vista del valore? Assolutamente sì, ci sono tre tipi di vantaggi. Uno, di natura di consumi interni energetici, che diminuiscono, si abbassano, e quindi le bollette di luce e gas sono più basse. Inoltre ci sono le detrazioni fiscali, gli incentivi fiscali di cui parlava anche lei, che variano da un 50% a un 65%, ma arrivano fino al 75% in condominio, all'85% se li uniamo al sisma bonus, in più il valore di mercato dell'immobile aumenta, può aumentare da un 10% a un 30% in base al tipo di intervento che viene fatto. In ultimo c'è un beneficio di carattere generale, perché ovviamente va a impattare meno nell'ambiente, e quindi c'è una produzione inferiore di inquinamento, e un beneficio per la collettività. Vi mostro dati alla mano come l'efficienza energetica paghi anche sul mercato immobiliare. Vediamolo, il valore della casa, l'efficienza energetica è il 77% degli immobili acquistati nel 2018, classe energetica A+, A oppure B. Tante domande arrivano al nostro indirizzo WhatsApp, anche per i nostri consulenti. Alla prima domanda risponde il notaio Giulia Clarizio. Vediamo, sto vendendo casa, gli acquirenti pretendono di riavere la caparra confirmatoria se la banca non concedesse loro il mutuo. Ne hanno diritto? Sì, ne hanno diritto se effettivamente era stato previsto nel preliminare. E lo comincio a dire già da qua. Il preliminare è importante, purché ci si scriva dentro tutto quello che ci va scritto. Cioè bisogna che tutto quello che noi vogliamo ottenere sia già previsto dall'inizio, dal preliminare. Conosciamo la bravura del notaio Clarizio, quindi cominciamo come faceva una volta il maestro Manzi a essere didascalici per suggerirvi come acquistare in tutta sicurezza una casa. Allora veniamo al momento dell'acquisto. Come si deve fare, notaio, un compromesso o un contratto preliminare corretto? Allora, si deve fare ragionando prima su quali sono, facendo l'analisi della situazione. Quindi un'analisi sia dell'immobile sia delle proprie capacità di acquisto. Quindi è inutile impegnarsi per qualcosa che poi non saremo in grado di rispettare. Questa è la cosa fondamentale. È chiaro che per farlo hai bisogno di un supporto, di una consulenza, di qualcuno. e quindi da questo punto di vista, ad esempio, se il notaio poi dovrà fare l'atto definitivo, non abbiate timore, andateci già prima, ma addirittura prima di mettervi a cercarlo, perché così sapete anche che cosa dovete chiedere, che cosa dovete anche analizzare di voi stessi, sapere se avete la capacità di poter sostenere, ad esempio, un domani un mutuo. Questo è fondamentale. Non ci si può indebitare più di quello che poi sei in grado di reggere dopo. Non c'è dubbio. Tra l'altro sul debito, mi manda Rai3, ha fatto numerose puntate proprio sulla sostenibilità del debito. Quanto tempo deve passare, notario Clarizio, tra un compromesso e un ruolo? Allora, dobbiamo pensare che il preliminare è un momento proprio in cui l'autonomia delle parti si esplica al massimo livello. Quindi lì vanno dette tutte le cose che si vogliono raggiungere, quello che si vuole ottenere, se il possesso l'ho prima, a che cosa lo voglio condizionare. Quindi non c'è nessun vincolo di tempo tra il preliminare e il definitivo. È chiaro che se io ho pochissimo tempo, forse il preliminare posso addirittura non farlo. Quando farlo? Ad esempio, se ho versato una cifra molto alta, se è verso 200 mila euro, non posso non fare un preliminare notarile. Se ne ho versati mille, magari posso anche non farlo, perché il rischio sarà minore. Quindi ogni situazione va studiata, va uscito proprio come un vestito d'alta moda. Come un vestito d'alta moda, di buona sartoria. Tra l'altro si può risparmiare a volte comprando case in costruzione. Però anche quello è un rischio. Comprare la casa su carta può essere un rischio. Sì, può essere un rischio. Nel senso che dobbiamo pensare una cosa. È un pochino come se l'acquirente facesse anche lui l'imprenditore. Adesso il legislatore ha diminuito molto questo rischio. Una volta il rischio era pieno. Poi dopo, se ho tempo, riesco a spiegare anche questo. Però è chiaro che se io acquisto e comincio a dare dei soldi al costruttore, in un certo senso lo sto finanziando. E quindi è ovvio che mi costerà di meno che se pago quando ormai la casa la vedo, so com'è, ho controllato effettivamente tutto. Prima la sto comprando a scatola chiusa. Anche se ovviamente questo sarà un preliminare che la legge prevede che sia molto rafforzato nelle difese dell'acquirente. E in quel momento lì la legge vuole proprio che ci sia il notaio a fare da sentinella. Che stia accanto alle parti. Perché il notaio è il garante di tutte le procedure, ma anche non solo di chi vende, ma anche di chi compra e di chi vende, di entrambe le parti e dello Stato. Ce lo dobbiamo ricordare perché l'atto deve essere fatto rispettando le norme del nostro ordinamento giuridico. Ecco le novità introdotte per l'acquisto di case dal 16 marzo del 2019. Il contratto preliminare di compravendita deve essere redatto da un notaio o in forma di scrittura privata autenticata. La seconda novità è che il costruttore è obbligato a consegnare all'acquirente una fideiussione per l'importo versato. Baccarino, le pare eccessiva la consegna di una fideiussione pari al valore dell'appartamento? Ma no, la fideiussione è una garanzia personale importante. È assolutamente in un momento così delicato come l'acquisto della casa, soprattutto su carta, quindi ancora non è visibile la proprietà, è importante avere una garanzia. Quello che noi riteniamo però è che la fiduzione dovrebbe essere progressiva. Cioè nel senso che è al momento della caparre, quindi quando si fa il preliminare, la fiduzione copre non solo l'importo versato, ma anche tutti gli acconti intermedi escluso il saldo prezzo. Secondo noi invece dovrebbe essere rilasciato dal costruttore man mano che i soldi vengono versati. Questa è una specifica che secondo me il legislatore dovrebbe cercare di appuntarsi e di modificare. Notaio Clarizzo, è meglio trascrivere anche il contratto preliminare di compravendita? Allora, se il contratto preliminare è fatto per atto notarile è obbligatorio trascriverlo, perché il notaio li deve trascrivere gli atti che riguardano gli immobili. Come dicevamo prima, dobbiamo fare sempre un calcolo di rischio e di beneficio. È chiaro che il preliminare trascritto rende indifferenti all'acquirente le vicende pregiudizievoli, negative, diciamo che potrebbero colpire il venditore. Quindi io dico fatto tana, insomma, nel senso che tutto quello che succede dopo e colpisce il venditore è ininfluente per l'acquirente. Ci sono casi in cui questo è indispensabile, sarebbe un rischio folle. Ci sono casi in cui questo si può anche decidere di non farlo e l'acquirente può decidere di correre questo rischio. Vi mostro il cartello con i costi del contratto preliminare per l'acquisto di una casa. 16 euro marca da bollo per ogni foglio, 200 euro per l'imposta di registro, 155 euro l'imposta di bollo se contratto redatto da un notaio. Voleva aggiungere qualcosa? Sì, c'è anche uno 0,50 sulla caparra. C'è anche uno 0,50, vedete quanto è preciso il nostro notaio. L'imposta di registro. Clarizio. Vediamo un po' di messaggi che arrivano sul nostro canale WhatsApp. Prima di acquistare una casa, posso avere il preventivo delle spese notarie? Assolutamente sì, fa parte di tutto l'insieme. Quando io vado a comprare casa devo mettere in conto il prezzo, le spese che devo sostenere con la banca, con la gente, e ovviamente anche le spese notarie. Nell'ambito delle spese notarie ci sono soprattutto le imposte, perché sono quelle che sono tante rispetto al totale. Vediamo un secondo messaggio, risponde Gian Battista Baccarini, Presidente della Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari. Nel 2007 ho comprato casa tutto regolare, diceva l'Agezia, vado a rivenderla e scopro irregolarità sulla documentazione catastale. Chi ne risponde? Ma allora dipende molto dal tipo di irregolarità catastale che è, e se anche all'epoca di quando ha comprato la casa, questa irregolarità catastale era considerabile letale. Ma la cosa importante è che la Federazione proprio su questo ha attuato un modello professionale di riferimento, una FIAI, perché va sulla scia della Prassi di riferimento 40 2018, che è stata pubblicata dall'Uni, che prevede una valutazione scritta, preventiva, che contempla un controllo di tutta la documentazione di l'inizio urbanistica catastale, di provenienza impiantistica condominiale, che eviterebbe tutta questa serie di problematiche, e quindi il cittadino sarebbe sereno con la collaborazione sinergica, ovviamente di tecnici e notai, di tutti coloro che fanno parte della filiera. Quindi diciamo uno strumento prima di mettere gli immobili in vendita. Molte grazie Baccarini, molte grazie al notaio Giulia Glarizio.